Questa è l'ultima battilatrice, Erika Puzzi Neri, anche lei è un'atleta del gruppo della bonistica che ha portato a casa un ottimo terzo posto al trofeo nazionale. Quindi tutte le ragazze che fanno soddisfazione alla squadra, alla società sportiva, complimenti per il nostro impegno. Allora, bambini, bambini, un attimo, bambini, piacere stare al lato perché è rischiato tutto, con Erika, vi fate male e fatevi a te la battilatrice, tutta la sua la storia senza superFO con la scubb. Iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.